SAI BOI Non so perché mi sono ricordato di un momento di PewDiePie Gritava SAI BOI E entrava in un video di Marzia Non so perché cazzo mi piace questa frase di gridarla SAI BOI Ehi ragazzi come va? Io sono Alex Max e oggi siamo su Minecraft Avete visto il setup? Da qua lo potete vedere Due luci, una là e una là Poi due monitor, una figata E niente, ed è questo il mio setup Una figata, incredibile Madre di Dio, sono stato a FK E per quanto tempo? Per tipo 4 ore, qualcosa dal genere Prima due e poi altre due Sono stato FK là sopra nella zona di polli Perché questo è carico E quindi abbiamo generato tutti questi Guarda qua, è assurdo Funziona troppo bene, troppo troppo bene E questo è il sistema, credo che l'avete visto tutti Cioè l'avete visto tutto, bene, bene Spero di sì Io volevo sinceramente fuori camera Ma non l'ho fatto alla fine perché dovevo fare delle cose Volevo togliere 3 strati di qui, di questo muro Però non l'ho fatto e non lo farò adesso Perché non c'è una pala Ah Minecraft Meravigliosa la musica Non mi rompe i coglioni Lo basso io da qui così Voi non soffrite E potete sentire come volete la musica Allora, ho fatto questo Perché praticamente voglio fare un design Un design anche con un po' di colori Ma voglio fare un design un po' fighetto Però che dovrò, cioè devo allungare la zona Devo farla più grande L'idea era fare questo Una cosa dal genere E avere ovviamente più spazio Cioè avere una salita qua naturale Poi questo portarlo più in giù, più in là E fare una salita anche naturale E avere questa zona così bella Mamma mia, guarda, 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 guarda come funziona Maldita di Dio Funziona troppo bene In due ore ho fatto un casino di cose Quindi io direi di togliere questo E anche lì c'era un altro L'ho tolto, non lo so Il caso Aleph, come hai fatto questi pietri Se ci vuole stone Da dove hai preso la stone? Niente Praticamente il nostro piccone Vi ricordate che abbiamo seal touch Con il nostro piccone Quindi piglito Adesso che ha seal touch Ogni blocco che tolgo È stone Quindi mi posso fare stone bricks È una figata È una figata assurda Però che faremo oggi? Perché in realtà questa farm l'abbiamo finita E voglio staccare un po' Sinceramente voglio staccare un po' Di questa farm Poi la decoreremo E la faremo molto bella Ma adesso voglio staccare E quindi cosa faremo? Prenderò Non lo so Non so che ci faremo oggi Abbiamo un sacco di ferro Abbiamo un sacco di queste Io direi Allora sono stato anche a FK Nella zona di ferro Ma non so se prima o adesso Non mi ricordo perché Ieri ho smesso di giocare E mi sono dimenticato di tutto Quindi Sono stato a FK in questa zona E poi sono stato a FK nella zona di ferro E ho preso un bel po' di ferro Qua abbiamo un bel po' di pollo Mi piace I like it Lo cambierò perché non voglio mangiare pane Sinceramente Teniamo questo che abbiamo qua addosso Ehi Hola Cazzo fate qui Dovete bene Sti cazzi Abbiamo diverse possibilità Adesso che abbiamo Un piccone con efficienza 3 Potremmo fare Io direi Stavo pensando in una farm automatica Di cose per vendere Tipo Pumpkins Pumpkins e Watermelon Però Non so C'abbiamo la redstone Per farlo E non mi va Di andare a prendere redstone Anche se dovrò farlo Comunque dovrò andare a prendere redstone Lo facciamo? Andiamo a prendere redstone E fanculo tutto Lo possiamo fare eh Possiamo andare a prendere redstone Questo Questo non mi serve più Questo è importante Dovrei iniziare a ordinare le cose eh L'abbiamo partita Dovrei ordinarla di più Mettiamo questo così Questo lo posso lasciare qua Mettiamo qua Prendiamo una 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 crafting table Questo lo posso tenere con me in realtà Ho bisogno di una pala però Non mi voglio fare una pala Semplicemente perché Che noia Farmi una pala no? Che noia Ho una quantità assurda di strumenti E mi devo fare una pala Che brutto Che è una situazione Molto brutta Vedete che ho di nuovo questa maglietta? Sono un po' Sono un disastro Dame Che cazzo è successo? Si è formato un secondo il gioco Comunque mettiamoci al lavoro Qua abbiamo una bussola Che figa Abbiamo un sacco di corde eh Anche di sedie Impaling Che cazzo è l'impaling? Non lo ricordo Andiamo alla mina Una quantità di hoppers immensa Non dovrei Cioè Aleph Por favor What? Ok Mi porto soltanto questo Davvero non ho bisogno di altro Quindi mi porto Mi dovrei portare un po' di più Per quanto riguarda la Per quanto riguarda il ferro Mi vorrei prendere Almeno una Un mezzo stack Adesso vedete quello che ho prodotto Quello che ho Creato In maniera passiva Stando qua a FK Che è stato PAM Allora ve l'ho fatto vedere Quello che avevo generato l'altro giorno Avevo fatto tipo Una quantità di stack assurda Cioè assurda Tipo questa linea fino a qua più o meno L'ho fatto vedere allora Nell'episodio precedente Non lo so Ai non c'ho ferro Ma io sono stato a FK Che cazzo è successo? L'ho portato tutto là sotto È possibile È possibile Va bene io sono a posto con 33 per adesso Adios amico Ai Mi sono fatto del male Andiamo Io vorrei sinceramente Preparare anche la zona del terzo piano Che in realtà sarebbe il primo Eh ti capito Il terzo piano Magari un quarto Sarà di buono farlo Non lo so No Fare qua E poi saliamo E così non dovrò poi distruggere la montagna Anche se è figo Tenere il mercato Incrustato All'interno della montagna Dobbiamo andare nel nether E cercare Uff Se vogliamo prepararci per Per prendere delle litre E quindi uccidere il drago E poi prendere le litre Eccetera Abbiamo bisogno di Lavorare seriamente Con Uh che figata Questo muro qua che ho fatto È proprio una figata Che c'ho qua Nulla 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 Me lo immaginavo Uh Quindi crescono con Possono fare spawn in maniera randomica Quando io metto dei Perché questo l'ho piattato io Che figata Non lo sapevo Non avevo idea Se questo bioma Allora lo possono C'è una percentuale Non avevo idea Comunque Dobbiamo iniziare Iniziare Io direi che Dovremmo iniziare A pensare al fatto Di uccidere il drago Perché è importante Ragazzi Che cazzo è successo qui Perché c'è un buco qua Non c'era mai stato Io vi giuro Ci sono delle esplosioni Di creeper Che io non le capisco Io non le capisco La metà delle volte Andiamo nella Non voglio Non voglio Mi mainare in maniera brutta Devo farlo Però non voglio Quindi andremo di nuovo Nella mineshaft E quelle zone Pericolosissime Non c'è uno scudo Dovrei farmi uno scudo Dovrei farmi uno scudo Perché se no Potrei morire E questo I don't like it What? Ah ok Già dicevo Ma che cazzo Sta succedendo Facciamo dei pali Ma che cavolo Sta succedendo Dammi la mia Oh Allora Perché cavolo Questa è la salita Facciamo così Questa è la salita Ok Così la riconosco Andiamo Verso di là Prendiamo carbone Il carbone è importante Bua 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 Ho bisogno di un piccone Con fortuna Adesso che ho questo Ho bisogno di un piccone Con fortuna E adesso rimarrò Senza Senza torce E vorrò spararmi Perché non vedo un cazzo Madre dios Mi devo fare un piccone Con fortuna eh Formi un altro Prendere un altro piccone Che è quello È valido Mettiti lo scudo Mettiti lo scudo Puto Puto Che paura Che paura Mi faccio un altro piccone Mi faccio un altro piccone Per prendere il carbone Perché se no Non riuscirò mai A vedere un cazzo E no Cioè non va bene Ai dios Saluto mister editor Adesso Voglio redstone Invece la stone Sì la voglio Però con il filter Ma che cazzo fa questo di sabbia qui Siamo sotto il mare Non ci credo proprio What Che collegamento è questo Dove cavolo sto andando Da qua ritorno No perché questo è messo per terra Questo è per andare Quello è per tornare E questo è per andare Facciamo un bel po' di torce Voglio fare una farm di Di teste Non posso ancora perché Cioè devo fare un bel po' di cose prima Però questo è per tornare Allora Dove dobbiamo andare adesso Se io metto le torce Da In questo caso sarebbe qua Qua è per tornare Vengo da lì Non me ne frega un cazzo Il ferro Assolutamente Anche se non c'ho Però Sto rimanendo Senza Questo Questo Cioè Questo me lo risparmio Questo lo dobbiamo risparmiare Questo è stato già esplorato E quindi Adesso dove andiamo Da qui sto tornando Non voglio tornare Ma neanche da qui voglio tornare Redstone por favor Ma siamo arrivati alla fine Di questa struttura Porca troia Dal montonito a sinistro Vedo di più Oh god Con un po' di delay Ma Che che mi voglio Mi voglio uccidere Non vedo un cazzo E se vedo qua È tutto Con delay Ok andiamo avanti Andiamo avanti Questa è una giornata Di esplorazione Molto figa What Puto What Battena Fanculo Battena Madre di dio Vediamo da questo lato Che c'è da fare Che c'è da esplorare Che dobbiamo vedere Ma abbiamo il Io ricapire Cioè posso aumentare Il brightness Oh grazie Perché se no Non vedo un cazzo Vi giuro Anche voi vedete meglio Grazie Meno male Madre mia Questo lo chiudiamo E questo me lo prendo Me lo prendo tutto il carbone Dovrei prenderlo con quello di mia Di mia Eh è rimasta una No 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 Dammela Dammela toda Certo per quel motivo non vedevo Avevo il brightness In moody In moody non si vede un cazzo Allora andiamo avanti Che 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 altro possiamo esplorare Questa è la maniera Meno buona Per prendere redstone Perché salgo Scendo Dobbiamo tornare Dovrò andare a fare Mining in una maniera brutta Mi sa di sì Mi sa proprio di sì Dobbiamo tornare Che sto Sto iniziando a girare E non mi piace Andiamo Torniamo Torniamo Sopra Si torna sopra Ok Davvero il problema che ho adesso Con il mio Il mio survival E Mi metto questa qua Il mio problema con il survival Cioè quello che mi manca Che non mi permetta di andare avanti È la redstone È la redstone Quello che non mi permetta di andare avanti Madre di dio È importantissimo Il redstone Mamma mia Quanto c'è Si può sapere Non prenderlo con quello Por favor Qua c'è Qua c'è un'altra zona Però a che livello siamo Perché se non siamo un livello ottimo Siamo a 44 Ma vattene a cagare Non prenderò mai redstone A questa altezza Con questo io mi faccio Una quantità Molto Really? Con questo io mi faccio Una bella quantità di torce E con 24 Mi devo fare Pam Perfetto Non mi devo fare più Per un bel po' Devo tornare E da qua non si torna Si torna da qui Madre di dio Quanto carbone Non si mina mai sotto di te Ci potrebbe essere lava È un pericolo A posto A posto A posto Dovremmo iniziare a tornare di nuovo Come si torna? Ai aiuto Aiuto Si torna da qui? Si da qui Da qua sopra Questo percorso Non l'ho fatto prima Sto facendo No Sto girando In maniera Oh no 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 Pensavo che stavo girando in maniera Circolare Sto dando dei cerchi Aiuto Non posso uscire Dove ho sbagliato? Dove ho sbagliato a mettere Oh 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 Usciamo da questo inferno Por favore Ok 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 Andiamo Oh mamma mia Mi sa che vi ho detto che è fuori cazzo No 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 Non voglio sbattere Non voglio sbattere assolutamente Cioè è impossibile Inaccettabile Andiamo nella nostra maniera Devo fare una più bella Perché questo fa schifo Cioè devo fare un sistema molto più bello Questo non mi serve Questo qua lo posso lasciare la merda Andiamo a lavorare Dimmi che c'è Dimmi che c'è qualcosa No è terra Oh cazzo è terra Pensavo fosse qualcosa di rosso Mi sa che non c'è proprio nulla Oh oh Qua si qua si qua si Oh 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 Allora Damme l'ottobo Damme l'ottobo papu Cioè ancora No non mi ricordo un cazzo Sicuramente un Wow E questo perché non l'ho raccolto Sono stupido Ok mi sa che Sono venuto una volta a fare In maniera AFK Cioè AFK Non AFK In maniera fuoricamera Sono venuto a raccogliere delle cose E alla fine non le ho raccolte Perché ho detto Eh poi lo faccio in camera E non l'ho fatto mai più Venga por favore Un po' di redstone Siamo nella 11 Un po' di redstone Non me lo frego il diamante Non mi dare diamante Non lo voglio il diamante Vedete questo già mi inizia a annoiarmi E non ho ancora iniziato Cioè vattene a cagare E vado veloce Cioè E vado veloce E poi non solo quello Ma è pericolosissimo È ultra pericoloso Madre di dio Che pericolo wey No diamante No por favore Ok ho fatto un thumbnail Solo per dire che non voglio diamante Non mi dare diamante Non mi dare ferro Ho bisogno di Di migliorare di librarian eh Devo migliorare di librarian Al massimo Ferro del cazzo Voglio il redstone por favore Increíble Madre mia Carbone Io voglio redstone Datemi redstone Por favore Cioè in altri survival Miei personali In cui non ho fatto un cazzo Perché giocare da solo Mi annoia tantissimo Trovavo redstone Da tutte le parti Me lo ricordo E adesso non trovo un cazzo Di redstone Di merda Che atroia Adesso quello che faccio È cercare Nella maniera più assurda Fortuna Con i librarian Devo prendere fortuna In qualche maniera E cioè Avete capito Oh oro Loro si mi piace Vedi loro I like I like oro I like gold Por favore No Si romperà Tra qualche Come cazzo si faceva Control Control Q Alt shift Q No F3 Q Cycle Show Chunk Onda F3 H Madre mia Questo Era questo Era questo Non me lo ricordavo Per niente Durability 1561 Sta per rompersi Mi rimangono 600 Allora Niente lava Niente lava Por favore Ok niente lava Niente lava Niente lava Adesso mi vado a prendere Tutto quello che prenderò Di redstone oggi Lo useremo per Per prendere Fortuna un altro giorno Cioè Tutto quello che prenderò Oggi di redstone Le parla bene Basta dislessia Per favore La dislessia La dislaxia Por favore E mettiamoci Che devo avere fortuna E poi prendere tutte queste cose Principalmente la redstone Per avere tanta redstone Centro lava Centro lava Atenzione Centro lava Però è pericolosissimo questo Dammelo todo Dammelo todo Centro lava vicinissimo Che pericoloso Ancora Carbone de mierda No Carbone de mierda No Por favore Allora Continuiamo La musica La musica Che mi fa compagnia Come mi piace questa musica Dios Che cumbiote Che cumbiote Minecraft Espectacular musica Venga Un'altra beta Un'altra Un'altra Basta Si No No Solo quello c'era Va a tener a cagare Solo quello c'era Ma sei pazzo Era qua giusto Dimmi che c'era Qualche parte No Ok Ferro Non me ne frega il ferro Trovato Trovato I like it Sono in raccia E sto in raccia Bua Increibile E basta No Perché altri due Va bene Un'altra 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 Io direi che Io direi che ho finito Per oggi Abbiamo 30 Quello ci darà Più di uno stack di redstone Cercheremo nel prossimo episodio Di prendere Di ottenere Fortuna Fortuna in qualche maniera Devo Devo Fallire di livello ai librari E lo farò insieme a voi Ovviamente Nel prossimo episodio Che registrerò subito Adesso Non so Ovviamente Perché Devo farlo Perché è fighissimo giocare Non posso smettere di giocare A questo gioco Il cazzo E quindi No 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 Che cazzo sto facendo Ok Mamma mia che viaggio Cioè tutto quello che ho tolto lì Non l'ho tolto in tutta questa zona Mamma mia Ah guarda L'altro diamante Questo diamante lo si Mi ricordavo bene Mi ricordavo bene Che avevo lasciato qualcosa Lo sapevo Lo sapevo Che avevo lasciato qualcosa E quando giocavo Mi mettevo qua Per quanto mi ho detto Andiamo a mainare Così prendiamo quel cosina Di importante Alla fine Cazzo Perché non prendiamo Un laurel Lo lasciavo per dopo E dopo Non è venuto Non è caduto mai Questa cosa di venire a prendere Cioè Prendere delle cose Tra virgolette Tra parentesi Anche diamante In questo caso Cioè quello che ho fatto qua Quello che ho trovato qua Cioè è stato tipo Nell'episodio 20 Più o meno Adesso siamo già Nell'episodio 71 Se non mi sbaglio Una pazzia Non sono venuto mai più qui Perché non mi piace Per niente mainare Va bene Abbiamo qua qualcosa No Però abbiamo tanti Tanti or Quindi io direi Che possiamo tornare a casa Lascerò qua un po' di merda Questa pietra no Perché è per costruire E quindi Io spero che Questo video Minecraft Vi sia piaciuto un sacco Se è così Lasciate un bel mi piace Condividete con i vostri amici E ci vediamo Quando ci vediamo Un altro giorno Adios